Parliamo di proteine del siero e voi direte ma come proteine del siero? Ce ne è già parlato e si è detto di tutto e di più, sappiamo tutto sulle proteine del siero. Vorrei in realtà contestualizzare questo video alla situazione di oggi della pandemia di Covid-19. E allora le proteine del siero? Ebbene, le proteine del siero ci possono aiutare, perché? Perché innanzitutto ovviamente durante questo periodo, soprattutto chi fa sport, chi fa attività fisica, deve mantenere un adeguato introito proteico per poter mantenere la propria massa muscolare. E in questo periodo è più difficile anche approvvigionarsi, fare la spesa ogni giorno. E comunque anche siamo in un periodo dove tante persone hanno problemi di restrettezza economica e quindi magari i fonti proteiche come carne, pesce, eccetera, sono anche abbastanza costose. In realtà le proteine del siero, se noi le equipariamo, le confrontiamo al costo della carne e del pesce, sono senza dubbio più economiche. Mettiamo che una fonte di proteine del siero di buona qualità costa circa 30 euro al chilo, vuol dire che circa 20 grammi di proteine del siero vengono a costare circa 50 centesimi, quindi molto meno dell'equivalente proteico che noi possiamo trovare nella carne o nel pesce. Ma non è solo un problema economico, è un problema anche di qualità e tipologia di proteine. Le proteine del siero hanno un valore biologico elevatissimo, maggiore di quello della carne e del pesce. E inoltre le proteine del siero hanno anche un effetto di potenziamento del sistema immunitario, perché hanno delle frazioni peptidiche che aiutano il sistema immunitario. In maniera specifica, per esempio, la presenza della lattoferrina, che è appunto una frazione peptidica che è in grado di contrastare i batteri e i virus. Inoltre nelle proteine del siero ci sono anche delle immunoglobuline, che sono le immunoglobuline IgG, IgA, IgM, che hanno un'azione anticorpale specifica. In più le sieroalbumine presenti nelle proteine del siero sono particolarmente ricche di cisteina, un aminoacido solforato che è precursore dell'acetilcisteina e del glutatione. Il glutatione sappiamo tutti essere un potentissimo antiossidante, disintossicante e fondamentale proprio per il corretto funzionamento dei linfociti del sistema immunitario in genere. L'acetilcisteina, che a sua volta è precursore di glutatione, ma di per sé stessa è un potente antiossidante, ma in più è un'azione specifica, diciamo, a livello dei polmoni. Sappiamo che l'acetilcisteina viene usata per fruttificare il muco. Ci sono già degli studi che hanno evidenziato che l'acetilcisteina somministrata in persone che hanno problemi respiratori ne migliora le capacità respiratorie e quindi nel caso di Covid-19 ovviamente noi sappiamo che uno dei primi problemi sono proprio, diciamo, quelli di tipo respiratorio. Le proteine del siero hanno anche un effetto di modulazione dell'appetito. Per esempio, se consumate prima di un pasto normale, sia nell'ottica di assumere il quantitativo necessario di proteine per pasto, ma ridiminuendo quelle della carne e del pesce che costano di più e assumendo quelle delle proteine del siero, se assunte prima del pasto diminuiscono l'appetito e quindi diminuiscono l'assunzione di calorie in genere, cosa che oggi, quando siamo costretti all'isolamento, è una cosa positiva perché in generale c'è più rischio di mangiare di più, anche solo per la noia, anche solo per il nervosismo, lo stress, la depressione, ma in più le proteine del siero hanno anche l'effetto, e ci sono stati fatti degli studi che hanno iniziato ciò, di diminuire il grasso viscerale e il grasso viscerale è un grasso che non è un grasso inerte, è un grasso quello che è dentro, nell'addome, è un grasso che produce citochine infiammatorie e l'infiammazione ha un effetto dettamente negativo nel nostro organismo e probabilmente anche nella prognosi di Covid-19, perché abbiamo visto che di fatti si stanno sperimentando farmaci proprio che blocchino l'infiammazione in maniera specifica l'interleuchina 6, che è appunto una citochina infiammatoria che è prodotta anche quando c'è un eccesso di grasso viscerale. Tra l'altro anche le indicazioni dell'ANSISA, associazione nazionale specialista in scienza alimentazione, per i pazienti ricoverati per Covid-19 indicano la necessità di un'alimentazione più proteica, perché gli anticorpi sono proteine, quindi ovvio che un'alimentazione ipoproteica va a discapito anche della funzionalità del sistema immunitario e vi consiglia appunto circa 1,5 grammi di proteine per chi c'ha di peso corporeo, quindi ben di più, 50% in più di quelle che normalmente vengono raccomandate, circa un grammo di proteine per chi c'ha di peso corporeo. Quindi direi che a parte il discorso delle persone ricoverate, che dubito che gli ospedali prendano in considerazione questo tipo di pratica di integrazione proteica, penso che per tutti quelli che eventualmente magari si ammalano ma non vengono ricoverati, fare un'alimentazione ipoproteica e magari assumere proprio le proteine del siero che hanno questo effetto specifico di potenziale di sistema immunitario e inoltre sono anche di facile somministrazione e anche vengono consumate facilmente, perché viceversa se dovessero aumentare il consumo di carne, magari soprattutto nei soggetti anziani, questo può anche essere più difficile per semplici problemi di masticazione ma anche di digestione, essendo spesso questi soggetti un po' ipocloridici, cioè producono poco acido cloridico e quindi digeriscono meno bene i cibi proteici che tendono quindi a limitare. Quindi a questo punto le proteine del siero credo che siano una risorsa importante e fondamentalmente anche economica in questo brutto periodo.